La città della Sicilia diventa da essere processato in un'altra città. Noi stiamo vivendo in un mondo strano rispetto al quale ci converrà essere il meno possibile proni e passivi. Matteo Salvini, abbiamo ascoltato una bella serie di storie tremende su questo attacco, ha detto bene a Capo Venosi, al saper fare italiano, sull'attacco alla tradizione italiana. Io mi ricordo quando da molto giovane vivevo a New York per lavoro e diventò una cosa di grande civiltà il fatto che arrivasse la mozzarella di bufala tutte le mattine e l'essere una città fortemente europeizzata di New York era dovuto anche avere i pomodori di pieno, la mozzarella di bufala, cioè i grandi prodotti italiani che venivano giustamente trattati come un prodotto di cultura, un segno di status, di emancipazione. Ora invece siamo ridotti all'esatto opposto. E non è solo il cibo, è un attacco complessivo. È un attacco complessivo che è da una parte un attacco culturale, dall'altra un attacco economico e materiale, secondo la mia opinione. Da una parte ti dicono niente Giovanni, Maria, niente Giovanni, niente Natale, niente Men, e ti dicono anche che si deve tolgere i simboli cristiani dalle scuole e così via. Dall'altra ti consentono pratica come l'utero in affitto e in mezzo ci mettono l'attacco ai nostri prodotti. La domanda che io ti faccio è che cosa possiamo fare sia a livello politico che a livello di sollevamento, uso questo termine, io moderata non sono stata mai nella mia vita, sollevamento della nostra società, perché qui incombe il pericolo. Grazie Maria Giovanna, grazie Anna Lisa per l'ottima organizzazione come sempre, grazie a voi. Innanzitutto cosa possiamo fare? Quello che stiamo facendo oggi, quello che state facendo oggi, perché fare la spesa è un atto politico. Scegliere un prodotto al mercato, al supermercato, è come andare in cabina elettorale a scegliere un partito. E quindi vi invito e mi invito a perdere qualche minuto in più quando si compra la giacca da regalare a Natale, quando si compra la cornice, quando si va a riempire il carrello per il pranzo e per la cena, perché io ho imparato a domandarmi cosa si può fare. Chi sono gli sponsor? Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Chi spinge il Nutri-Score? Nestlé, Danone, Carrefour, Lidl, McCain. Chi è McCain? McCain è una multinazionale canadese che è il primo, è il leader mondiale di patatine surgelate. Che spinge il Nutri-Score? Perché stando all'algoritmo di qui sopra, l'olio, il vino e il parmigiano insomma sono in discussione. La patatina surgelata fa bene. E se voi andate sulla pagina Facebook di, per curiosità l'ho aperta, di McCain, non ho nulla contro. Siamo arrivate. Scopri il busto del cibo di strada con street fries e le sue due ricette BBQ beef e bacon and cheese surgelati. Ci trovi al supermercato. Questo avrebbe il bollino verde se fossimo in regime, e dico regime, con l'accezione duplice del termine di Nutri-Score. Carrefour, leader francese della grande distribuzione. Lidl, nota marca tedesca della grande distribuzione. Nestlé e Danone, che hanno rilevato marchi ex italiani, e che ovviamente vedo che Nestlé si è impegnata a portare sugli scaffali che adottano le Nutri-Score. Vedi il Belgio, il 50% dei cereali da semaforo rosso a semaforo verde. E se la facciano loro, la colazione con i cereali a semaforo verde, io preferisco pane e mortadella, alla vecchia maniera. Non so che semaforo c'è, però... Quindi, grazie a questo convegno, ovviamente la Lega non avrà mai un euro di contributo da parte di Nestlé, Danone, Carrefour, Lidl. Ne facciamo, almeno con tutto il rispetto, così come io ho messo la prima firma all'emendamento in manovra di bilancio che riguarda le multinazionali che vendono online, ovviamente ogni riferimento ad Amazon è puramente casuale, per chiedere che nel nome della concorrenza leale i prodotti che vengono venduti sulla piattaforma online paghino l'IVA come la pagano tutti i commercianti italiani, gli imprenditori italiani e gli artigiani italiani. Ci parlano di concorrenza leale e poi se faccio da marketplace non pago io l'IVA, la paga l'azienda che vende, poi l'azienda che vende chiude, io faccio concorrenza al prodotto in negozio, lo Stato non vedrà mai un euro di IVA, quindi è strana questa Europa che vuole la concorrenza per svendere le spiagge siciliane, ma poi quando ci sono di mezzo le multinazionali è meglio non... Quindi chi c'è dietro? Questi. Ogni tanto Davide batte Golia, sì, però sappiamo che abbiamo a che fare e badate bene la stranezza, se voi andate su Google, alcuni articoli pro NutriScore e contro risposta italiana, la risposta italiana è molto più strutturata, visto che abbiamo un'alimentazione con più storia, più struttura e più varietà, invece del semaforo ottuso, l'algoritmo, cinque colori che ti traducono 26.000 molecole, la risposta italiana dei ministeri italiani e delle associazioni italiane è quella dell'etichetta a batteria dove vai a dettagliare. È chiaro che un bicchiere di vino fa bene, e questo lo terrò anche io come promemoria prima di intervenire in aula, due fiaschi di vino probabilmente comportano qualche problema. Una grattata di parmigiano sulla pasta fa bene, una mezza forma di parmigiano potrebbe creare qualche... ma è sempre un problema di limiti e misure, guarda caso uno dei quotidiani online che riportava le parole di Nestlé, pro Nutri e diceva che la proposta, la controproposta italiana era roba da poco, sarà una coincidenza, il fatto quotidiano. Poi io non sono un complottista, le scie chimiche, le robe, però io metto in serie un elenco di fatti e dico se ci sono le multinazionali che lavorano e che mi propongono... Stamattina ero a un intervento, a un convegno di imprese agricole, già all'ossimolo, la carne coltivata. Come cazzo fai a fare la carne coltivata? La carne coltivata. Però, quindi cosa si può fare? Informare, capire, ragionare e comprare. Magari spendendo 10 centesimi in più, però i 10 centesimi in più che premiano la qualità italiana oggi sono un investimento sulla salute dei nostri figli domani, perché l'uomo è ciò che mangia. Con tutto il rispetto, se mangi un certo tipo di alimento, vieni su in una certa maniera. E ripeto, questo non è solo al tavolo, e usano e useranno, e per questo io sto impegnando la Lega a fare incontri, ne abbiamo fatto uno anche questa settimana a Roma, il tema green, il tema ambiente. Perché tutto ovviamente è fatto per difendere l'ambiente. Qualunque cosa ormai uno faccia nella giornata si deve domandare, ma Greta sarebbe d'accordo? Questo mio gesto ha l'approvazione, fa parte dell'economia circolare, starò salvando una tartaruga. Avrò contribuito a ripulire, perché questo? Fattore educativo come sentivo prima. Dal Nutri-Score passi ad esempio all'auto elettrica. Quando, facendoci del male noi da soli, diciamo che entro il 2035 non possono più circolare auto a combustione interna, quindi fuori legge benzina e diesel, per tutelare l'ambiente, facciamo qualcosa di sbagliato, controproducente e suicida. Suicida dal punto di vista occupazionale, perché mettiamo a rischio non solo 100.000 posti di lavoro diretti, ma un milione del comparto. Poi vai a guardare i numeri, perché quando uno si informa si accorge che ti stanno raccontando male delle bugie poco confezionate. Qual è la percentuale di CO2 mondiale prodotta dalle auto private italiane? Lo 0,19%. Cioè noi vogliamo togliere dalle strade italiane decine di milioni di autoveicoli per ridurre questo 0,19% di produzione globale di CO2, sostituendole con le auto elettriche, le cui batterie vengono dalla Cina, che per produrre le auto elettriche, per pulire l'aria a Palermo, mette in lavorazione 18 megacentrali a carbone. Cioè voi vi rendete conto della follia che per ridurre infinitesimamente un'improbabile produzione qua, andiamo, il 30% delle emissioni globali inquinanti arriva dalla Cina. Noi a Palermo possiamo andare in giro col cavallo, col monopattino elettrico, con dobbiamo avere la forza di spiegare che per produrre l'energia elettrica inquini, inquini, usi il carbone, usi il gas, usi il gasolio e questo vale per il Nutri-Score. Lo diceva Carlo, se noi chiudessimo gli allevamenti domani e mangiassimo la carne della fotocopia, inquineremmo di più. E' questo, se noi rendiamo fuori mercato fare agricoltura in Sicilia, per cui io ho visitato realtà in cui mi dicono Matteo a me costa di più produrre arance che non produrle, o le lascio cadere a terra, o taglio gli alberi e riconverto. Riconverto vuol dire, io l'ho visto in alcuni casi, questo è un parere soggettivo, anche nella mia Lombardia, al posto delle distese di campi che producono cibo, vita, profumi, pannelli fotovoltaici. Ecco, io non voglio che l'Italia venga deturpata da una serie di paleoliche e pannelli fotovoltaici che vadano a distruggere quello che è il nostro paesaggio. Anche perché mi togli le radici degli alberi, mi metti un bel pannello fotovoltaico e poi il disesto idrogeologico e c'è tutto. Togliamo le auto perché inquinano lo 0,1 e per prendere quelle che non inquinano abbiamo le centrali a carbone. Togliamo gli alberi perché non sono convenienti, mi metto il pannello e poi ovviamente l'acqua fa il suo mestiere e la terra mi arriva in casa. Click, la vita click, la generazione Amazon e la generazione Netflix. Io ho un figlio di 18 anni, ormai non guarda più, ma non Rai 1, Canale 5, non guarda più neanche Sky, ormai ci sono serie. E io mi sono un po' appassionato e ho guardato scanalando. ti offrono un mondo diverso e alternativo, ti offrono un'idea di famiglia diversa alternativa, ti offrono un'idea di studio e anche un lavoro che più precario è, più bello è. Cioè ci sono alcuni target per arrivare all'obiettivo che ti spiegano che come la principessa che ci ospita e la ringrazio in questo posto straordinario, se lei è sposata con la stessa persona da 40 anni è una fallita sostanzialmente. Che noia! E se qualcuno dei suoi figli ha un lavoro stabile e ben remunerato non ha capito niente nella vita. Sai il bello di avere dei contratti rinnovabili di 15 giorni in 15 giorni, lo spirito d'avventura, ci sono, non ci sono, tocca a me, tocca all'altro, e pur di avere in sorte che tocchi a me, mi accontento anche di 10 euro in meno. Ho visto proprio su Netflix, l'ultima scorsa un film interessante dove c'era uno che pur di arrivare all'obiettivo pagava la multinazionale per andare a pulire i vetri. E quindi era contento perché andare a pulire i vetri in questo grattaceo gli costava solo 10 euro al giorno. Il consumatore. Nei documenti europei non si parla di uomo o donna, di cittadini. Il consumatore. Secondo me è terribile. Cioè proprio pensate alla parola, all'etimologia della parola, il produttore e il consumatore. Poi se il produttore è sradicato ed è un algoritmo di una multinazionale, e il consumatore è rimbecillito da... Fatto, c'era una bellissima canzone Sono fuori moda, mio figlio mi dice papà sei vecchio, di Luigi Tenco, che parlava dell'acqua blu. E quindi c'era questa, la ballata della moda, se non ricordo male, si intitola, che decideva che con una campagna pubblicitaria, e stiamo parlando di decenni fa, perché Tenco non è più con noi da un bel pochino, però pensate la visionarietà, la canzone sostanzialmente ricordava che con una campagna pubblicitaria ben fatta, l'acqua blu, che non aveva nessuna proprietà migliore rispetto alle altre, anzi era peggio, e costava di più, però sarebbe stata in tutte le case, in tutti i ristoranti, in tutti i negozi. Anche perché di negozio in negozio, se non avevi l'acqua blu, eri uno sfigato, e quindi sostanzialmente o ti bevevi quella, o ti bevevi quella. Quindi io non vorrei arrivare nello scaffale degli amici di S.Lunga, a poter scegliere una delle 37 varietà di patatine surgelate della McCain, perché hanno il semaforo verde, e andare a cercare sotto il parmigiano reggiano, perché non so più dove raccattarlo. Quindi cosa possiamo fare? Maria Giovanna, informarci, perché noi spesso diamo per scoprire, far politica nei tempi del Covid è molto più difficile, perché la gente è molto più esigente, ha molto meno tempo da perdere, ha molta meno voglia di ascoltare, e quindi o hai dei messaggi fondati, credibili, documentati, non puoi dire difendiamo l'Euro 3 diesel perché mi stanno sulle palle i cinesi, non è sufficiente, se tu però vai a dire che metto a rischio un milione di posti di lavoro, 2035, produco lo 0,1% di CO2, e l'elettrico mi inquina di più, perché mi ha... cioè, le centrali a carbonio non inquinano solo a Pechino, perché nonostante il super green pass l'inquinamento non si ferma ancora ai confini nazionali, e quindi temo che l'inquinamento degli oceani là abbia delle ripercussioni anche qua, e quindi documentarci noi, rivendere tramite i nostri megafoni, i parlamentari dell'Assemblea Ragionale, i sindaci, i militanti, gli imprenditori che siano coscienti di questo, e io penso che noi siamo dalla parte giusta della storia, non per megalomania, ma perché quando oggi sono arrivati gli auguri del Presidente del Parlamento Europeo, fortunatamente ancora per poco, David Sassoli, che dice buone festività, così, buone festività, è Natale, è Natale, non ci sono delle festività, non è la festa della neve, robe improbabili delle scuole, è Natale, poi c'è, per chi crede, ci sono Maria, Giuseppe, Giuseppe, bambino, per chi non crede, però è bello lo stesso, non sono, quindi, quando, quando l'università per stranieri di Siena col tuo amico Tommaso Montanari, che è già un paese che mette un tizio del genere a fare rettore universitario, è un paese che si merita otto, NutriScore, ha portato avanti e vinto la battaglia per avere i bagni inclusivi senza genere, io l'ho visto, c'è l'etichetta, poi anche surreale, c'è la fantasia della Madonna, io non ci arriverei, c'è il bagno con il simbolo del maschio, c'è il bagno con il simbolo della donna e c'è il bagno con tutto un simbolo che non si capisce niente, che secondo me che al liceo sarebbe stato usato dagli studenti per andare a farsi le canne, quindi vedi un simbolo strano, mi infilo lì dentro, non trovo né il maschio, né la femmina, lì non c'entra nessuno, vado lì. Però le donne hanno vinto il diritto di fare la pipì in piedi. Però, per dire, abbiamo ragione noi, facciamo politica anche quando compriamo e quando regaliamo, questo però dipende da noi. Se qua ci sono 150 persone che ci mettono la testa di 150 in 150 perché difendiamo il Made in Italy, però il Made in Italy se c'è qualcuno che lo compra va avanti, se c'è qualcuno che lo compra e poi ultima riflessione difendiamo in difesa, sono stufo di giocare in difesa perché è qualche anno che giochiamo in difesa per arginare i danni che arrivano da Bruxelles e la direttiva Volkenstein è sbagliata, difendiamo i balneari e la direttiva Volkenstein mette a rischio i commercianti ambulanti, difendiamo i commercianti ambulanti e le direttive europee ci impediscono di presidiare i confini, difendiamo i confini, poi difendiamo i confini e andiamo a processo, questo però io non me la prendo con la giustizia italiana, secondo me i responsabili sono quei parlamentari di sinistra che facendo un errore storico di cui pagheremo tutte le conseguenze portano in tribunale la battaglia politica che non riescono a vincere in Parlamento perché questa è la cosa la cosa surreale. Poi del resto ci siamo abituati il procuratore generale di Palermo a cui vanno i miei ossequi che è venuto in aula a sostenere l'accusa io raramente ho visto dei procuratori capo arrivare in aula a sostenere l'accusa è stato promosso il procuratore capo di Roma ma sicuramente non c'è nessun nesso logico è un percorso professionale meritato meritato assolutamente chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire così come però per dire che dipende da noi sono stupido di giocare in difesa perché mettiamo le toppe il nutriscore è un giorno ti fregano sulle macchine l'altro giorno ti fregano sul termovalorizzatore poi quello ti vuole bloccare la Tav quello ti blocca la TAP e quello ti blocca le Olimpiadi la CGL ho visto peraltro una foto siamo al surreale commenteremo questa nello stesso giorno in cui il sindaco di Roma annuncia che non ci sarà nessuna festa di piazza per Natale Capodanno per pericolo Covid c'è la piazza del popolo piena delle bandiere rosse della CGL qua abbiamo un virus selettivo che a Capodanno rischia di far danni ma il 16 dicembre quando c'è la CGL in piazza evidentemente si estende dal fare il suo mestiere però lavoriamo ragioniamo guardiamo avanti dicendo anche cose che magari per qualcuno sono stonate ma se sono fondate abbiamo il dovere di dirlo faccio l'esempio e mi taccio l'energia documenti alla mano e su questo porteremo come analisa col suo modello Nutriscore sul tema energia ambiente sostenibilità green economia circolare l'energia nel futuro più sicura più pulita più ambientalmente compatibile è il nucleare di quarta generazione sicuro e pulito punto numeri alla non filosofia numeri alla mano come incidenti sul lavoro come mancata non è quella di Chernobyl per intenderci anche qua le serie tv Chernobyl è passato qualche anno e quindi siamo circondati io messaggiavo prima con un consulente delle imprese il megawattora in Italia oggi è arrivato a 350 euro al megawattora era a 100 poco tempo fa noi abbiamo questo lampadario che la padrona di casa mi diceva essere il più imponente non ho capito se è d'Europa o del mondo del mondo vabbè facciamo del mondo occidentale perché in Cina ne avranno uno sicuramente più non l'han fatto a Murano ma tanto che ce frega però produrre noi abbiamo dovuto mettere in manovra di bilancio un emendamento da 6 milioni di euro perché le imprese energivore perché il forno non è che lo accendi o lo spegno per fare sto coso che è un gioiello incredibile e commovente tu devi tenere il forno elettrico acceso in maniera costante ebbene le aziende che il mondo ci invidia a Murano rischiano di chiudere domani se non hanno un contributo perché con dei costi energia luce e gas di questo genere siamo assolutamente fuori mercato e anche qua cosa c'è dietro è per caso no non è niente per caso perché qua c'è la lobby non voglio farmi troppi nemici nella stessa serata però evidentemente se qualcuno vuole mettere fuori mercato e non competitiva l'energia elettrica e il gas c'è la borsa del CO2 c'è la corsa all'idrogeno di ultima generazione è sempre un motivo di business ovviamente e quindi siccome al mondo oggi pomeriggio sono operativi 440 reattori nucleari in Francia ce ne sono 56 e la cosa con cui li metti a tacere chi ha detto che il nucleare comunque è ecocompatibile non il premio Nobel per la fisica che Greta Greta ha detto che che il nucleare comunque avrebbe il bollino verde quindi quando c'è il bollino verde la commissione europea la Finlandia e la Sveglia per Sassoli sarebbe babbo festivo babbo babbo felice però sarebbe babbo natale tendenzialmente Finlandia e Svezia i paesi dei laghi dei fiumi degli abeti delle renne dei caponordi quant'altro hanno stasera mentre noi torniamo a casa Palermo delle centrali nucleari attive attive nella verde Finlandia nella verde Svezia quindi mangiare italiano è un nostro diritto alimentare con luce e gas prodotti anche in Italia le aziende italiane è un nostro diritto poter ambire a viaggiare su auto o mezzi italiani sarebbe un nostro diritto dobbiamo informarci e informare e ripeto io farò di tutto perché il 2022 non sia più un anno in cui giochiamo in difesa sono stufo di giocare in difesa per limitare i danni che producono altri l'Italia ha tutto il titolo per giocare in attacco e farsi inseguire dagli altri sulle sue proposte e sui suoi prodotti che non hanno uguale al mondo ti faccio un'ultima domanda detto questo siete veramente infami perché io oggi non ho pranzato sto qua senti parlare di cotechino di parmigiano la pizza il vino sono stomaco vuoto inizio ad essere insofferente una domanda rapida e poi tu deciderai se la tua risposta è rapida manca ancora più di un mese ma più o meno ma non si parla d'altro ovvero l'elezione del Presidente della Repubblica pubblicità è stata una bella serata ci vediamo presto a me fa molto piacere perché perlomeno non si parla di Covid hai detto mi sentite? sì allora tu hai deciso di passare all'attacco di non stare in difesa se ho capito bene su questa vicenda nella quale si giocano molte partite e il rientro della politica vera dentro dopo un anno col banchiere o col bancario come preferisci tu la domanda è no ma sono io che sono un mostro non ci fate caso il punto qual è? il punto è prendo le distanze anche io un po' da me stessa hai deciso di mettere in piedi un tavolo dando prova di grande pazienza e perseveranza bisogna che ci spieghi che cosa conti di fare con questo tavolo in cui ti siederai che ne so anche con Frato Ianni se ho capito bene è stata un'emozione contattare Frato Ianni però calenda cioè tutto onori e oneri di chi ha governato governa e ritiene che se gli italiani vorranno continuerà a governare a Dio piacendo a lungo questo paese quindi la cosa che in questo dicembre soprattutto in questo gennaio che si si avvicina che rischia di essere comunque un gennaio molto complicato perché noi stiamo approvando una manovra di bilancio che il senato dovrebbe approvare giovedì 23 che prevede un taglio di tasse di 8 miliardi quindi sia IRPEF che IRAP che porterà mediamente fra i 100 e gli 800 euro di vantaggio fiscale per tutti per la prima volta c'è una manovra che senza essere geniale però non esclude nessuno ovviamente c'è chi risparmia di più e chi risparmia di meno però lavoratori dipendenti dipendenti pubblici pensionati partite IVA lavoratori autonomi chiunque chi 100 euro chi 3.000 euro perché cancellare l'IRAP e la burocrazia conseguente per una partite IVA per un autonomo ti può significare anche un risparmio di 3-4.000 euro all'anno e questo l'abbiamo voluto noi come Lega insistentemente perché non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B non è che liberi professionisti autonomi artigiani e partite IVA siano vacche da mungere che non hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri tutti gli altri perché altrimenti non però questo risparmio fra i 100 e i 6-700 euro con punte di 3-4.000 rischia di essere vanificato perché il caro bollette luce e gas ti porta minimo 500 euro di aggravio tenete presente che noi rompendo le scatole ai nostri amici di governo e al nostro amato presidente del consiglio abbiamo portato il governo a trovare 3 miliardi e 800 milioni di ristori per famiglie e imprese Macron ne mette 10 di miliardi quindi capite bene che non vorrei che il taglio IRAP e IRPEF da qui a febbraio per accendere il riscaldamento perché purtroppo in Italia d'inverno fa freddo venisse vanificato quindi perché ho chiamato i miei colleghi segretari dei partiti dai più piccoli ai più grandi Totti Brugnaro Filippo Achammer della SVP Fratoianni Calenda Renzi Letta Conte ovviamente oltre i nemici del centro-est dicendo invece di parlarci dalla Bianca Berlinguer dalla Gruber sul Corriere retroscena su Repubblica questo va bene vogliamo una donna vogliamo un uomo vogliamo uno che sia un po' un uomo e un po' una donna vogliamo un presidente inclusivo un presidente biondo un presidente simpatico non può essere Berlusconi ma può essere comunista deve essere comunista ma non può essere sovranista e quindi tutte delle alchimie la gente secondo me uno due tre e ci manda tutti a pettinarle bamboli troviamoci diciamocelo invece che in diretta tv ci troviamo anzi chiedo alla principessa se ci ospita poi non voglio telecamere microfoni nascolti però già l'ambiente potrebbe essere portatore di eventi positivi ci troviamo in 10 15 20 ho scoperto quando ho detto i miei chiamo i segretari di partito ho l'elenco in macchina 37 come 37 sì perché ho scoperto in Parlamento partiti della cui esistenza anch'io ero all'oscuro mi sono fermato a una ventina perché alcune sigle mi sono permesso di aggiornarle la prossima volta però qual è la razza diciamocele ragioniamo è chiaro che non saremo mai tutti d'accordo proporrò che se la manovra di bilancio venisse approvata dalla Camera del Senato entro Natale ci si trovi anche perché non mi sembra una cosa così bizzarra fra Natale e Capodanno perché ci sono milioni di italiani che comunque lavoreranno fra Natale e Capodanno anche i segretari di partito potrebbero azzardare l'ipotesi di trovarsi per fare una riunione di lavoro fra Natale e Capodanno per capire per valutare per provare a mettere insieme dei requisiti certo quando Letta dice no Berlusconi quando quell'altro ti dice però deve avere i capelli biondi e lunghi però io preferisco affrontarle di petto poi non ci troveremo d'accordo ma almeno proviamo a condividere un metodo questa volta e mi taccio a differenza delle ultime elezioni degli ultimi Presidenti della Repubblica c'è qualcosa di diverso ossia che il centro-destra parte come maggioranza mentre nelle ultime partite giocavamo appunto in difesa nel senso che si doveva scegliere fra la rosa proposta dagli altri quello meno lontano questo giro non dico che abbiamo diritto di scegliere uno dei nostri il Quirinale non è ecco questo mi ha sempre indispetito dalla sinistra che hanno sempre pensato che le istituzioni fossero loro per imposizione divina proviamo a fare una scelta quanto più condivisa possibile però partendo onore e onere dal fatto che su mille e nove grandi elettori già questa roba strana però il centro-destra può partire da un budget un quorum di 460 malcontati che sono più di quelli del centro-sinistra poi c'è il gruppo misto che è uno dei gruppi più numerosi ormai presenti in Parlamento che è un magma però diciamo che nelle prime tre votazioni servirebbe una maggioranza qualificata di 670 qualità qual sarà il problema io faccio questi tavoli anche per provare a sentire a calibrare a metterci la faccia insieme perché poi il problema di questa elezione del Presidente della Repubblica è che arriva a cura di un Parlamento a fine mandato col taglio dei parlamentari dietro l'angolo con alcuni partiti ormai frammentati e sopravviventi a se stessi e col voto a scrutinio segreto voi ve li vedete mille parlamentari che scrivono a scrutinio segreto nell'urna un nome un cognome ecco per arrivare a 670 le prime tre votazioni occorrerebbe e io sono ottimista per natura e ci provo a trovare una sintesi a fare una sintesi dalla quarta votazione in poi basta fra virgolette la maggioranza semplice ma sono pur sempre 505 parlamentari che scrivono lo stesso nome e cognome sulla stessa scheda però io non sono abituato a farmi scivolare la vita addosso e io sono qua a Palermo perché appunto ho scelto di fare il ministro prendendomi gli onori e gli oneri non mi piacciono i ministri che scappano per poi dire io non c'ero e se c'ero dormivo io c'ero e rivendico con orgoglio dall'inizio alla fine quello che ho fatto in scienza e coscienza e quindi siccome io a Palermo ho il calendario di udienze quindi uno o due volte al mese ho la mia tappa a Palermo io poi sono sto facendo una simil dieta quindi in cui toglierei qualche un po' di carboidrati poi chiedo la consulenza gratuita a chi ha parlato prima di me però Palermo non mi sembra la realtà più indicata per mantenere questa perché poi ho scoperto anche che il riso io mi lavavo la coscienza dicendo non ho mangiato la pasta l'ultima volta non ho mangiato un e tre atti di pasta no ho mangiato le arancine è bravo scemo è il riso è ancora più calorico quindi non ce l'ho fatta però vi dico grazie e vi do la mia parola che non faccio promesse però ce la metteremo tutta per dare a Palermo un sindaco all'altezza e per fare in modo che la regione Sicilia sia governata a lungo e bene dal centro-destra con la Lega come traino l'arancina l'arancina è terribile l'arancina no ma qua sbaglia dire arancina arancino è un dramma è un questa è la patria dell'arancina quindi possiamo dirlo Maria Germano vuoi dire altro? no no siamo a posto così bene allora io intanto ho dimenticato non ho dimenticato ma con le mascherine non le avevo riconosciute voglio ringraziare il dottore Cattabellotte che è il dirigente generale del dipartimento dell'agricoltura della regione siciliana che è una persona detta di tutti preparata e disponibile sempre in maniera trasversale ringrazio volevo consegnare Matteo un piccolo dono a proposito di prodotti tipici che ci hanno portato da poco è un cavallino di formaggio fatto a mano in un caseipicio ecco visto che c'è fama e quindi ecco non arriva a casa bene poi volevo salutare tutti voi ringraziarvi per questa splendida platea e dirvi che ci sarà un buffet per tutti noi però il senatore Salvini penso che ci lascia perché mi sa che è di fretta non lo so per me io sarei sarei felice non essere così ultimativa il senatore Salvini ci lascia domani è venerdì 17 pure il senatore Salvini ha un altro impegno vi ringrazia e vi abbraccia e vi augura buon santo Natale in anticipo grazie grazie Matteo grazie mille brava Annalisa grazie